parte delle nostre famiglie. Oltre a chi ci è venuto ad ascoltare c'è anche chi ci accompagna sul palco. Abbiamo Alberto, la batteria. Per questa, qua no, per il resto della sala è il figlio del batterista. Poi c'è la piccola Sabri, l'avete sentita prima? Ed è la figlia del nostro figlio del batterista, Gigi. E poi c'è mia figlia, Valentina. Dedichiamo questo pezzo a tutte le nostre famiglie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.